Ciao a tutti, oggi è mercoledì 17 marzo, la voce che sentite è sempre quella di Gabriele Gatti e questa è la puntata numero 166 del Terzo Uomo. Qui con me ci sono Charles Nuwakpa, che la scorsa settimana aveva perso la voce e anche il sorriso. La voce sicuramente l'ha recuperata, il sorriso non lo sappiamo. Ciao Charlie! Ciao, ciao a tutti! Sì, ho recuperato entrambe le cose. Bene, siamo felici, sicuramente sarà felice anche Michele Tossani. Ciao Mick! Ciao, un saluto a tutti. Sì, facciamo la svelta però perché devo vedere la mia ex-studentessa all'Isola dei Famosi, quindi devo vedere come si comportano. Quindi dopo devo andare subito a controllare. C'è anche Gasconi, mi ha detto. C'è anche Gasconi, sì, non è Gasconi il mio ex-studente, ma una studentessa. Lo vedremo, lo vedremo. Sveleremo il nome nelle prossime puntate, quindi seguiteci. Seguiteci solo per quello, non per le nostre analisi e per i nostri commenti. Allora, prima di parlare di ciò che è successo in questi due giorni di Champions League, iniziamo la puntata parlando del Milan che nell'ultimo periodo ha avuto qualche alto, per esempio la gara con la Roma, quella con il Verona e anche il pareggio a Manchester contro l'United in una gara di andata degli ottavi di Europa League e però ha avuto anche diversi bassi. La sconfitta con lo Spezia, quella nel derby, il pareggio con l'Udinese nel finale, arrivato in maniera molto rocambolesca e fortunata, la sconfitta con il Napoli di domenica scorsa e in campionato ha perso un po' di punti in classifica rispetto alle inseguitrici in ottica qualificazione della Champions League. Mentre per quanto riguarda l'Europa League vedremo un po' cosa farà domani sera nella gara di ritorno. Allora, sicuramente sul punto del Milan bisogna fare una premessa, e cioè che nelle ultime settimane i rossonerini hanno avuto tantissime assenze, hanno avuto tanti giocatori importanti fuori e questo sicuramente ha influenzato. Però il calo, a livello generale, a livello medio delle prestazioni, c'era già stato quando Pioli aveva più o meno tutto a disposizione, perché contro lo Spezia c'erano quasi tutti, nel derby c'erano quasi tutti. Insomma, è un calo che viene da più lontano e che è dovuto probabilmente anche ad altri fattori. Quindi vi chiedo, che spunti vi ha lasciato l'ultimo mese e mezzo del Milan? Ma guarda, il Milan, come hai detto tu, sta vivendo un periodo di calo. Sicuramente hanno inciso le assenze, gli infortuni vari, qualche giocatore che magari non è tornato a pieno regime dopo un periodo di riposo forzato. Soprattutto credo che abbia inciso il fatto che la Rosa non è di pari livello, cioè i titolari non hanno dei sostituti all'altezza in quelle che sono teoricamente le riserve. In particolare il Milan non si può negare come gli sia mancata l'asse portante, l'asse centrale, perché nonostante un Chessy che abbia a volte in alcune partite giocato per due o per tre, in alcuni casi, alla squadra ci sono stati dei problemi all'altezza dei difensori centrali e sono venuti meno Benasser, Ibrahimovic e anche Shalanoglu, che comunque da quando è rientrato non è a livello di prima che avesse i problemi che sappiamo. Quindi questo sicuramente ha inciso, così come ripeto ha inciso il fatto di avere una squadra, una rosa abbastanza corta, ripeto non numericamente ma dal punto di vista qualitativo, c'è un discreto stacco tra la formazione titolare e le riserve. Detto questo, la domanda che mi rimane, alla quale probabilmente potremo rispondere solo più avanti, la risposta la sapremo solo a fine stagione come per altre squadre forse, è se il Milan si riprenderà oppure se il Milan ha vissuto finora, forse, e questo ne va dato merito a Pioli, al di sopra delle reali possibilità di questa rosa. Cioè se il Milan abbia overperformato in qualche modo e come squadra, grazie anche ai principi introdotti da Pioli e alla gestione tecnica dell'allenatore e del suo staff, abbia viaggiato in qualche modo al di sopra dell'effettivo valore di questa squadra. Questo credo che lo potremo scoprire solo più avanti. Di certo la squadra ha un'identità, la perdita dei giocatori cosiddetti titolari non ha infisciato, perché comunque Pioli a volte anche rischiando, e a volte è andata male, abbiamo visto nel derby, ha mantenuto comunque la stessa identità, una squadra che pressa alto, una squadra che cerca di aggredire, una squadra che cerca di difendere in avanti, che cerca di riempire velocemente la zona di rifinitura con quanti più uomini possibile per invadere al meglio l'area avversaria, una squadra che gioca soprattutto per corsi esterne. Però ripeto, resta da vedere, lo vedremo strada facendo, quale sia il valore effettivo di questa rosa, se c'è quella che ha fatto un'annata straordinaria, perché diciamo da marzo scorso, o comunque no da marzo, dalla ripresa dopo il lockdown fino ad oggi comunque l'annata è stata più che positiva, oppure se il valore della squadra è quello un po' tentennante che ha mostrato nelle ultime uscite. Io personalmente un po' un calo me lo aspettavo, perché a me sembrava evidente come questa squadra stesse andando un po' oltre i suoi limiti, perché comunque parliamo sì di una squadra che sicuramente ha dei giocatori di talento, ha una certa qualità, però mi sembrava che il Milan quando era primo in classifica, o comunque quando era vicino all'Inter, al secondo posto, mi sembrava essere un po' sopra rispetto ai suoi reali valori, sicuramente questo Pioli ha tanto merito, però non era un Milan che diciamo era primo o secondo a pochi punti dall'Inter, per fortuna, era un Milan che era meritatamente in quella posizione in classifica, e se guardiamo gli expected goals questa cosa si nota, perché il Milan magari qualche partita fortunata qua l'ha avuta, però in generale ha sempre fatto bene anche in questi termini. Mentre nel 2021, guardando i dati, si vede come questa squadra si è calata, e in alcune prestazioni, in alcune partite, ha creato meno di quanto ha subito, e diciamo questo in parte spiega anche perché poi ha perso punti in classifica. Secondo me un punto chiave a livello più tattico, in cui la squadra è calata, è il pressing, perché a me sembra una squadra che tende ad allungarsi un po' di più rispetto a prima, e quindi quando aggredisci alta non sempre riesci a recuperare palla così bene come invece faceva nella prima parte di stagione, e spesso c'è una grossa distanza tra i due mediani e la linea difensiva, e questo lascia davvero tanto spazio in questa zona del campo per gli avversari che fanno un passaggio in quella zona lì e poi possono puntare la difesa. Nello specifico, sulla difesa, secondo me, quando ha giocato Romagnoli, si è visto davvero tanto questa difficoltà perché è un giocatore che tende a scappare molto all'indietro e quindi tende ad allungare ancora di più la squadra. Mentre quando ha giocato Tomori, secondo me il Milan tendenzialmente ha difeso meglio, e secondo me l'ex giocatore del Chelsea ha avuto un ottimo impatto sulla squadra ed è sicuramente una delle note più positive in questo ultimo periodo. Un po' le considerazioni le avete fatte voi adesso. Mi sento di dire che il Milan in questo momento sta sicuramente pagando il fatto di aver comunque giocato a lungo con diversi giocatori fuori e sicuramente non ha aiutato anche il fatto che davanti, per esempio, non ha potuto contare su quelle che dovevano essere le alternative per certe posizioni. Penso per esempio a quello di prima punta, perché Ibra è infortunato, ma anche lo stesso Mandzuki ci è stato infortunato. Infatti nelle ultime giornate è stato leao a dover agire come punta e non ha giocato affatto bene. Per esempio penso alla gara con lontorodinese, in cui lui è stato molto avusso dal gioco e non è riuscito mai a rendersi neanche pericoloso. Questo senz'altro credo abbia un po' limitato il Milan a livello offensivo, perché senza Ibra hanno perso sicuramente un riferimento davanti per giocare la palla lunga e per attaccare in maniera un po' più diretta. E poi anche senza Cerenogu, che comunque, come diceva Mick, è sì un po' calato, è venuto a mancare un po' di qualità nella rifinitura, nella zona 14 in generale. E quindi leao è stato un po' responsabilizzato eccessivamente rispetto a quello che lui magari è stato abitato a fare nei precedenti mesi. Sono d'accordissimo con Gap quando lui accenna le difficoltà che Milan ha avuto nel pressing. È una cosa che abbiamo visto molto molto bene nel derby contro l'Inter, ma si è visto anche in altre gare. In effetti la coppia Tomori-Kier sembra ben più portata per questo tipo di difesa in avanti. Penso per esempio alla gara ad Old Trafford con l'United, in cui il Milan comunque ha difeso tutto sommato bene. E già abbiamo visto che in quella partita Pioli ha fatto un po' di modifiche al pressing del Milan. Tra la partita con l'United e anche la gara con il Verona, abbiamo visto per esempio Cronici schierato nella posizione di esterno-sinistra, il 4-2-3-1. È un Milan comunque che cerca di essere un po' più accorto nel pressing, mentre prima magari era più diretto, cercava sempre di andare uomo su uomo nella metà campo avversaria, adesso invece diciamo che sta cercando un po' di modulare l'intensità o comunque le situazioni in cui va a pressare. Quindi magari cerca di non scoprirsi troppo in mediana, a maggior ragione con Tonali accanto a Chiesi, perché Tonali non ha le stesse capacità di benasserre nel recupero palla. E quindi sì, a un Milan anche in queste ultime giornate è un pochino che non sono granché positivi. Però qualche leggero miglioramento c'è stato secondo me. Penso alla gara con il Napoli, anche se comunque il Milan ha perso, penso appunto alla gara con l'United e proprio alla gara con il Verona. Queste tre, rispetto se penso soprattutto a quella con l'Inter o anche quella con lo Spezia, evidenziano anche che Piogli e il suo staff abbiano provato a sistemare qualcosa. Per quanto riguarda il calo offensivo, vedremo. Mi aspetta comunque che il ritorno di Iba nel prossimo settimana il Milan riprenda a fare bene. Anche se adesso la classifica è un po' traballante perché ci sono tutte le squadre dietro. Il Milan adesso non ha più quel gap che aveva fino a un mese fa. C'è rischio anche forte che questa squadra possa purtroppo scivolare dalla seconda posizione fino alla sesta. Per cui vedremo un po' cosa succederà. Sì, sono tutte lì. Come dicevi te, il gap si è ristretto. Diciamo che la sosta arriva davvero al momento giusto perché dà quelle due settimane di tempo per poter recuperare qualche giocatore che ora è infortunato. Aggiungo un fattore che un pochino ha peggiorato le prestazioni del Milan cioè che Donnarumma rispetto alla prima parte di stagione ha avuto qualche sbavatura. Penso al gol subito contro l'Udinese e anche a quello contro lo United dove non è uscito bene. Doveva sicuramente andare in avanti e cercare di intercettare il lancio lungo di Bruno Fernandes. Prima di cambiare tema volevo farvi una domanda che magari non è attualissima perché ora se Pioli li avesse a disposizione li farebbe giocare sicuramente entrambi. però diciamo nella formazione tipo del Milan nel 4-2-3-1 c'è l'anogo trequartista Ibra a prima punta Sale Makers tendenzialmente largo a destra e poi uno tra Rebic e Leao largo a sinistra. Diciamo che qualche settimana fa appunto quando Milano aveva tutti a disposizione si discuteva molto su chi fosse meglio far giocare la piolare. Poi chi preferite tra Rebic e Leao? Ma guarda sono due giocatori diversi questo è facile dirlo. Nella questione di Leao volevo aggiungere appunto proprio a proposito qualcosa perché probabilmente sì il ragazzo è stato in questo periodo per forza di cose caricato di responsabilità che non è ancora come diceva Charlie non è ancora magari maturo tecnicamente soprattutto per portarle. Ha mostrato grandi colpi però grandissime pause. C'è anche da dire che spesso è stato impiegato fuori posizione e in situazioni tattiche difficili perché contro l'Udinese è chiaro bisognava fare di necessità virtù non c'erano altri però con l'Udinese per esempio l'Udinese difende basso con un blocco difensivo molto basso Leao è un giocatore che dà il meglio di sé quando può correre fronte alla porta giocare a spalle alla porta senza poter tagliare senza poter andare in profondità l'Udinese ha negato benissimo la profondità lo ha messo in difficoltà. Io credo che recuperandoli tutte e due con la squadra quindi al completo ospetterà Pioli il compito di scegliere di volta in volta in funzione dell'avversario quale dei due sia l'elemento più adatto anche in virtù delle capacità diverse delle capacità associative diverse che hanno con Cialanoglu e soprattutto con Teo Hernández quindi la capacità di liberare lo spazio per le corse di Teo Hernández. In generale poi riallacciandomi prima di lasciare una parola a Charlie riallacciandomi a quello che dicevate sul Milan e riallacciandomi a quello che diceva lo stesso Charlie sarà interessante vedere come arriverà il Milan a fine campionato non solo per vedere proprio come finirà la classifica ma anche per vedere come verrà valutata la stagione di Pioli e la stagione della squadra perché nella malaugurata ipotesi in cui il Milan non dovesse qualificarsi per la Champions che era l'obiettivo dichiarato della società e che sembrava facilmente raggiungibile soprattutto quando la squadra è stata prima per diverso periodo per un buon periodo di tempo probabilmente si griderà alla stagione negativa al fallimento eccetera eccetera però bisognerebbe soprattutto in ambienti milanisti però mi faccio anche la domanda al netto di tutto cioè vedendo anche la rosa a inizio stagione è vero che aveva la società all'obiettivo di arrivare a fare le prime quattro ma soggettivamente non ci sono quattro squadre con la rosa migliore del Milan quindi se il Milan dovesse finire fuori dalla Champions bisognerà anche vedere chi si qualificherà ma credo che al netto delle rosa a disposizione insomma forse ci sono squadre che sulla carta sono più attrezzate erano più attrezzate del Milan per arrivare fra le prime quattro io francamente ricordo che quando avremmo fatto la preview avremmo messo il Milan nel pelotone di squadre dietro a Inter, Juve e Atalanta diciamo il gruppetto con Roma e Napoli quindi la mia idea è oggi se il Milan dovesse arrivare in qualsiasi posizione tra il terzo o sesto posto non sarei troppo sorpreso sicuramente ha fatto un ottimo inizio di stagione e credo che questo non vada assolutamente dimenticato quando si valuterà il lavoro di Pioli a stagione finita vedremo appunto tornando invece alla domanda di Gabriele io personalmente preferisco un po' di più il layout perché secondo me tra i due forse è quello che nell'uno contro uno comunque in situazioni estemporanei ti offre qualcosa in più Rebic senz'altro è più bravo a livello difensivo si sacrifica molto di più rispetto a Leao che magari non torna sempre però credo che Leao con la palla soprattutto abbia qualcosa in più a livello tecnico non so è più bravo nel dribbling più iniziativa quando può puntare l'avversario Rebic mi sembra comunque uno che per lo più senza palla riesce a rendersi pericoloso anche se comunque abbiamo visto che con la palla sa il fatto suo penso per esempio al gran gol che ha fatto con la Roma un paio di settimane fa quindi credo che dipende anche un po' dalle situazioni col Milano a compilato io preferirei Leao davanti nell'undici totale mentre invece Rebic ad oggi mi sembra più un giocatore che in quel contesto lì può essere devastante a gara in corso perché mi sembra uno che se sta bene può fare molto bene adesso non ha fatto così con Napoli però è giusto per far capire un esempio diciamo che Rebic ha un delta tra migliore prestazione e peggiore prestazione più basso rispetto a Leao cioè Leao quando gioca bene gioca davvero bene quando gioca male gioca davvero male Rebic invece è un po' più costante in questo aspetto e volevo ricollegarmi a quello che diceva Mick sulla prestazione di Leao contro l'Udinese in cui ha assolutamente ragione perché il portoghese ha avuto diverse difficoltà a giocare in un poco spazio e a lavorare spalla alla porta io in quella gara lì quando Pioli ha messo Rebic nella ripresa mi sarei aspettato di vedere il Crovato fare la prima punta e Leao invece ha messo largo a sinistra a provare uno contro uno e invece Pioli non l'ha fatto perché ha lasciato Leao prima punta e Rebic largo a sinistra secondo me il portoghese in quel ruolo lì di prima punta lo può fare solo quando il Milan si trova ad attaccare tante volte in campo aperto come era stato anche in alcune gare penso a quella col Sassuolo mentre quando si trova ad attaccare difese schierate sinceramente lo farei giocare largo a sinistra con Rebic prima punta ovviamente parlo in partita in cui Ibra è infortunato o riposa o è squalificato chiaro altrimenti sarebbe lo svedese a giocare là davanti a proposito dello svedese qualche giorno fa è arrivata l'ufficialità del suo ritorno in nazionale che diciamo è un po' sorprendente ma nemmeno tanto se ci pensiamo perché comunque la Svezia dopo qualche anno in cui non aveva una grandissima rosa anche se poi comunque ha ottenuto grandi risultati valutando la qualità tecnica della squadra ora nell'ultimo periodo negli ultimi annetti ha qualche giocatore giovane di talento perché c'è Kulusevski c'è Isaac c'è ovviamente il solito Forsberg ormai il giovane non lo è però parliamo comunque di un giocatore di grande talento quindi il ritorno di Ibra la decisione dello svedese di ritornare non si può definire come sorprendente voi cosa ne pensate? ve l'aspettavate? siete curiosi di vedere la Svezia all'europeo? io onestamente non me l'aspettavo devo essere sincero mi sembra mi sembra strano però credo che comunque il fatto che lui abbia preso questa decisione eventualmente avrà valutato con lo staff con la federazione che c'era la possibilità di fare un buon piazzamento in questa competizione quindi credo che un giocatore con la sua esperienza e comunque se sta bene come ha dimostrato per lo più nella prima parte di stagione con Milan può sicuramente dargli qualcosa in più vedremo sono sorpreso però sono anche incuriosito da questa scelta Nick ma sono sì anch'io abbastanza sorpreso del fatto che sia stato comunque sia richiamato non lo so ecco staremo staremo a vedere qualche dubbio ce l'ho su quello che potrà dare che potrà dare alla Svezia più che altro sono curioso di vedere come verrà gestito dal gruppo cioè comunque sia come verrà gestito dallo staff tecnico non solo non parlo tanto a livello di minutaggio a livello di proprio di utilizzo tecnico ma come verrà gestito il rapporto fra il resto della Rosa e Ibrahimovic proprio a livello a livello ambientale già che se non mi ricordo male insomma non sempre la gestione del suo ego all'interno dello spogliatore della Nazionale è stata è stata ben vista insomma non è stata sempre ben gestita c'è stata qualche frizione in passato quindi vediamo vediamo un po' non è più nel prime della carriera però sarà interessante vedere quella che credo dovrebbe essere la sua ultima apparizione su un palcoscenico di questo livello a meno che non giochi fino a 50 anni non credo vedremo cambiamo tema e passiamo a parlare della Champions non si può che non iniziare commentando la sconfitta per 3 a 1 dell'Atalanta a Madrid contro il Real una gara diciamo sicuramente interessante perché ha lasciato diversi spunti secondo me quindi vi chiedo come descrivereste questa partita da cosa partireste per parlarne io partirei da una parola qualità è una banalità quello che sto per dire però ragazzi in Champions la qualità fa tutta la differenza nel mondo e credo che Real all'andata prima dell'espulsione di Freuler e per diversi tratti della gara di ieri soprattutto nel secondo tempo l'abbia l'abbia fatta vedere a maggior ragione con la vecchia guarda è stata un'Atalanta che alla fine esce con un risultato secondo me che da un lato è severo perché credo che i ragazzi di Gasperini possano sicuramente recriminare per un paio di occasioni che hanno avuto penso soprattutto alle due clamorose che si è divorato Zapata nel secondo tempo ieri e anche sicuramente per gli episodi perché comunque hanno preso un gol su rigore un gol nato da un erroraccio di Sportiello il gol tra l'altro nato da un errore di Ivic insomma molti dei gol che hanno subito sono stati condizionati ecco da errori tecnici ed è qualcosa che anche lo stesso Gasperini poi ha rimarcato alla fine alla fine dell'incontro devo dire che sicuramente a livello tattico è stata una partita piuttosto interessante per come hanno approcciato in tambo le squadre questo incontro perché l'Atalanta abbiamo visto nella prima fase della gara soprattutto nei primi trenta minuti secondo me aveva lavorato complessivamente bene a livello del pressing all'andata non aveva funzionato per niente già quando le due squadre erano in unici contro unici invece abbiamo visto una disposizione un po' più accorta e una strategia anche intelligente da parte dei dei nerazzure l'obiettivo sostanzialmente era quello di far iniziare ogni possesso del Real da Courtois che sappiamo non è non è un giocatore che ci eccelle nella gestione della palla e quindi cercavano quasi sempre di forzare queste situazioni sia su rimesse dal fondo ma anche appunto a possesso consolidato c'era Muriel che aveva l'obiettivo di tagliare fuori Sergio Ramos che era centrale della difesa 3 e quindi far indirizzare la manovra verso il lato destro che era quello più debole se vogliamo in costruzione e dove comunque l'Atalanta avrebbe anche potuto sfruttare la fisicità di Deron che per l'occasione è stato schierato come mediano sinistro e di Gosens su Modric e soprattutto Lucas Vázquez e appunto penso che una prima mezz'ora questo pressing abbia funzionato bene l'Atalanta secondo me ha controllato il complesso bene il contesto tattico della gara è riuscito quasi sempre a non far uscire anche i madrileani se non appunto per errori errori tecnici che le hanno giocato ripartenze contro però credo che il suo grande problema nonostante appunto abbia controllato abbastanza bene il contesto tattico in questo periodo è stato il non riuscire a concretizzarlo poi effettivamente in occasione da gol e in gol perché se scudiamo la grande occasione per Gosens a inizio gara poi l'Atalanta non ha fatto più niente in quel tempo un'Atalanta che ha provato quasi esclusivamente a costruire e a rifinire l'azione lato sinistro con Jim City Gosens Deron e Paslic che avevano attorno l'obiettivo di liberare sempre un giocatore alle spalle di Vasquez Zevalan per rifinire però appunto è stato un'Atalanta molto lenta molto prevedibile che è stata ben contenuta se vogliamo anche da un ottimo lavoro difensivo del Real in particolar modo con Valverde che è stato molto bravo a ripiegare a seguire Gosens anche in zone molto profonde del campo e secondo me l'Atalanta ha pagato anche la brutta prestazione davanti di Muriel e di Marinoski ma il Noski ha sbagliato tanti palloni è stato secondo me uno dei peggiori in campo per l'Atalanta e anche Muriel nonostante il gol molto bello nel finale non è che abbiamo fatto una grande partita ha sì creato l'occasione per Gosens ma poi credo che lui sia stato un po' troppo statico durante il corso dei minuti spesso si faceva anticipare Spalla la Porta la Varano Ramos ma si faceva anche anticipare nelle poche situazioni in cui provava a raccare la profondità e io fossi stato in Gasperini magari gli avrei chiesto di defilarsi un po' di più a iniziazione lui l'ha fatto pochissimo questa cosa lo faceva quasi solamente Pasoli a sinistra e questo secondo me avrebbe anche dato un po' più di iperabilità ai nerazzurri anche a costo di non c'era una presenza fissa in area di rigore diciamo che Pasoli c'era stato forse il migliore a livello offensivo dell'Adea nei primissimi minuti perché aveva fatto un bel tunnel mi sembra su Varane si era anche inserito abbastanza bene poi però dal torno al ventesimo è calato nettamente poi Gasperini lo ha lo ha sostituito Charlie prima accennava al fatto che anzi parlava del fatto che nella prima mezz'ora sicuramente l'Atalanta ha tenuto testa al Real lavorando bene nel pressing poi però Mick bisogna dire che nella restante parte della gara il Real ha dominato tu su Twitter hai scritto che Zidane outcoached Gasperini diciamo che la chiave sicuramente sono stati movimenti senza palla che i giocatori di Zidane hanno fatto per diciamo eludere le marcature uomo della Dea sì quello così come anche il movimento veloce della palla che insieme ai movimenti degli uomini le rotazioni dei movimenti degli uomini hanno il uso la pressione atalantina la scelta della difesa 5 alla fine è risultata vincente da parte di Zidane perché di fatto appunto l'Atalanta ha creato poco e quindi diciamo in entrambe le due fasi la battaglia la battaglia tattica l'ha vinta Zidane è chiaro che aveva armi a disposizione diverse di quelle che aveva Gasperini però è riuscito a disinnescare completamente in entrambe le fasi il gioco dell'Atalanta quindi per quello ho fatto quel tweet quindi io direi l'analisi tattica l'avete fatta tutta voi sia su Twitter che comunque ora soprattutto questi interventi io aggiungerei solo un paio di cose primo che Zidane ha dimostrato ancora una volta di essere anche un tattico quindi non solo un gestore di spogliatoi o di grandi ego come è stato con Ronaldo ma anche comunque uno che è in grado di preparare le partite e in passato ha dimostrato anche di saperle leggere e intervenire correttamente insomma questa è la prima cosa la seconda che il livello del campionato italiano il livello del calcio italiano ancora una volta prende una bella una bella batosta nell'Europa che conta a un certo livello questo conferma una vecchia teoria per la quale un conto è vincere a briscola con il nonno un conto è vincere a scopone scientifico al circolino poi proprio per andare a giocare a vincere a poker a Las Vegas e ci vuole un'altra qualità questa è mia per personale l'ho rivogata da più parti su Wikicode alla pagina Michele Tossani c'è questa c'è bisogna bisogna reggere pressioni diverse c'è una pressione diversa e bisogna sfoderare una prestazione qualitativamente superiore che in questo momento le squadre italiane per vari motivi poi perché comunque le eliminazioni non sono tutte uguali gli avversari non sono tutte uguali ma le squadre italiane fanno fatica a reggere soprattutto è una questione anche di qualità e di ritmo perché in Europa si gioca si spezzetta di meno il gioco si gioca a un ritmo superiore con una qualità superiore quando tu alzi il ritmo e alzi anche la qualità e allora se non sei abituato i giocatori non sono abituati a quelle prestazioni qualitative di quel tipo e poi fanno fatica l'abbiamo visto negli ultimi anni le squadre italiane sempre si fanno fatica Mick giustamente ha parlato dei movimenti senza palla delle situazioni che hanno disorganizzato il pressing dell'Atalanta e secondo me un po' come all'andata si sono viste l'importanza di giocatori come Mendy e di Vinicius Mendy è un giocatore che soprattutto all'iniziazione viene espresso dentro il campo è molto bravo a offrire linee di passaggio e negli ultimi mesi è diventato una risorsa preziosa per la squadra di Zidane perché è bravo a creare una linea di passaggio e a permettere alla squadra di guadagnare il campo rispetto agli avversari e anche ieri già nel finale del primo tempo i suoi movimenti hanno messo in crisi il sistema di marcatura uomo dell'Atalanta e poi Vinicius che ha fatto una prestazione da Vinicius cioè tanti bel dribbling tanti bel spunti ma poi quando si tratta di tirare è stato il solito Vinicius e questa cosa pensando all'occasione che si è divorato ieri prima poi di guadagnare il rigore del 2-0 lui aveva fatto un'intervista l'altro giorno a El Paes dicendo che per lui dribblare un avversario è più facile che segnare in effetti se vedete l'azione cioè è impossibile non credere perché lui fa uno strappo tipo 70 metri prima in 1-2 come in D poi si porta la palla in aria poi ne salta tra in un fazzoletto di campo e poi a tu per tu con sportiello di mezza punta tira sta ciofeca fuori e mi ha fatto ridere la reazione di Sergio Ramos che si è accasciato a terra che era disperato e sono da una partita alla Vinicius insomma un giocatore che ha fatto vedere quanto sia determinante per Real quando riesce ad avere il campo ad attaccare quando riesce a puntare gli avversari ha messo in difficoltà a Toloi sia l'andata che a ritorno in questo aspetto ed è stato secondo me lui nella prima ora di gioco il principale riferimento offensivo dei Blancos poi anche gli altri sicuramente hanno giocato piuttosto bene e sono usciti senza tanto molto bene nel corso della partita diciamo che Toloi quando è stato puntato in uno contro uno la Vinicius sia ieri che anche nella gara di andata soprattutto nel primo tempo non ci ha capito niente perché o veniva saltato o doveva far fallo davvero davvero dominante Vinicius nell'uno contro uno spero che dopo questa prestazione Zidane gli dia un po' più di continuità perché nell'ultimo anno anno e mezzo soprattutto in questa stagione Zidane faceva giocare Vinicius poi magari la prima prestazione negativa lo toglieva e lo faceva stare in panchina per tre o quattro settimane di fila facendolo magari subentrare soltanto nella ripresa eppure secondo me tra tutti gli esterni che Zidane ha a disposizione escludendo Hazard che purtroppo è sempre infortunato Vinicius credo sia quello che sicuramente ha il potenziale più alto e quello che può fare in assoluto di più la differenza comunque oltre a Brasiliano e oltre a Mendy nel reale ha giocato bene anche Sergio Ramos che nel primo tempo ha fatto davvero tante belle chiusure ha giocato bene secondo me anche Modric che dopo un inizio in cui non toccava tanti palloni ha iniziato ad abbassarsi un po' di più e assieme a Cross ha manipolato benissimo i due mediani avversari della Dea, Derun e Pessina che dalla fine del primo tempo in poi sono dovuti ritrovare davvero a coprire tanto campo e questo ha messo molto in difficoltà la squadra di Gasperini e infine sicuramente anche Benzema ha giocato molto molto bene come sempre nel lavoro che fa per la sua squadra quando viene incontro per ricevere spalla alla porta o anche quando si apre sulla sinistra per poi fare inserire i suoi compagni Mendy in primis come dicevate prima ma anche Vinicius in alcune situazioni Prima non l'abbiamo detto ma prima di salutarci bisogna toccare un ultimo punto perché la sfida tra Real e Atalanta purtroppo per chi è abbonato a Sky non è stata soltanto la sfida tra Zidane e Gasperini e tutti i giocatori in campo ma è stata anche la partita di uno dei peggiori commenti da parte di Caressa in tutti questi anni forse il peggiore secondo me sì diciamo ne ha dette talmente tante che è difficile ricordarsene tutte però ce n'è una che mi ha un po' mi ha un po' triggerato e mi ha costretto ad andare a raccattare a recuperare un po' di analisi statistiche e dati vari che alcune persone che contrariamente Caressa fanno data analisi di lavoro e che sanno elaborare i dati che non stanno lì col tacquino a mano a segnarsi tutte le costruzioni dal basso che sono finite male e quelle che sono finite bene ma che prendono i dati dai database di Opta o di Statsbom o di un'altra azienda che fornisce dati a squadre alle persone abbonate e appunto li elabora per fare delle analisi reali con delle basi solide nello specifico ci sono due analisi secondo me che spiegano molto bene il contrasto tra il costruire dal basso quindi giocare corto sui rivi dal fondo e invece c'è quello di giocare lungo quindi cercare una palla alta verso i giocatori offensivi c'è un'analisi di John Muller per leggerla potete iscrivervi alla sua newsletter Space 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 Muller ha analizzato tutti i rivi dal fondo che ci sono stati nelle ultime sette stagioni di Premier League quindi un campione piuttosto ampio e ha diviso questi rivi in dieci tipologie in dieci cluster tre corti quindi il pallone giocato corto sulla destra dal portiere o corto sulla sinistra o corto davanti a sé due tipologie medie quindi un passaggio un po' più lungo però sempre nella propria metà campo uno più sulla destra l'altro più sulla sinistra e poi cinque tipologie di passaggio lungo tutte e cinque nella metà campo avversaria una lungo dritto una lungo sul centro-destra una lungo sul centro-sinistra una lungo largo a destra e una lungo largo a sinistra confrontando gli expected goals che nascono da tutte queste tipologie di rinvio dal fondo sia quelli che la squadra che batte il rinvio crea in seguito che quelli che subisce risulta evidente come sia più vantaggioso quindi la differenza sia positiva quando la squadra batte il rinvio corto mentre sia negativa quando batte il rinvio lungo ovviamente si parla di una differenza minima perché parliamo di rinvio dal fondo non parliamo di calci di rigore non parliamo di situazioni in cui in maniera diretta nascono occasioni da gol naturalmente uno ricordando quanto detto prima cioè che questa analisi è stata fatta sulla base delle ultime sette stagioni di Premier League potrebbe dire ok però cosa succede se noi escludiamo le squadre migliori cioè quelle che hanno giocatori più tecnici e quindi quelle che ovviamente devono costruire dal basso perché hanno il portiere e i difensori più bravi a gestire il ballone beh Müller ha fatto questo ha escluso le big six dalla sua analisi e anche in questo caso risulta comunque più vantaggioso costruire dal basso quindi giocare il pallone corto rispetto a a lanciare lungo naturalmente la differenza tra expert e gols creati e subiti diminuisce un pochino ma rimane comunque positiva se si gioca sul corto l'altra analisi interessante che citavo prima è quella che ha fatto Tom Warwill che ora scrive per di atletica in passato lavorava ad Opta e che ha presentato all'Opta Pro Analytics Forum dell'anno scorso anche lui ha ha confrontato i rinvida al fondo battuti corti con quelli lunghi e dai suoi dati deriva che la squadra che batte i rinvii corti nel 98,5% dei casi mantiene il possesso mentre quella che li batte lunghi soltanto nel 65,3% dei casi mantiene il possesso questa è una cosa abbastanza diciamo logica che ci potevamo aspettare e quindi uno può anche pensare ok mantieni più possesso se giochi corto però magari non guadagni tanto campo se giochi corto ne guadagni di più se giochi lungo falso perché Warwill ha analizzato anche questo e ha scoperto che in media la palla progredisce nettamente di più battendo i rinvii dal fondo corti rispetto a quando gli si batte lunghi infatti se gli si batte lunghi in media la palla progredisce di 39 metri mentre se gli si batte corti la palla progredisce di 49 metri quindi 10 metri in più che pochi sicuramente non sono insomma i dati parlano chiaro contrariamente a quelli inventati da caressa in media costruire dal basso conviene naturalmente queste sono tutte analisi generali e non specifica alla singola squadra o al singolo giocatore ed è ovvio che la riuscita o meno della costruzione dal basso dipende dagli interpreti e anche la cosa fanno gli avversari infatti sarebbe molto interessante analizzare i dati del gioco corto quando la squadra che costruisce da dietro viene prestata alta ma guarda io volevo aggiungere solo una cosa perché secondo me ci si dimentica spesso di un fattore che dello sport si gareggia per vincere e quindi per vincere devi fare quello che è più efficace per la tua squadra o per per il piano gara l'ideale è chiaro sarebbe avere una squadra in grado di alternare le due costruzioni nella stessa partita o a seconda della partita però è chiaro ci vuole un livello di evoluzione di sviluppo dei giocatori del modello di gioco molto molto alto quello che conta è l'efficacia ci sono squadre che costruiscono dal basso come il Sassuolo il Sassuolo costruisce dal basso si ha avuto risultati si quindi è giusto che faccia così altre squadre come l'Atalanta e il Verona hanno una costruzione diretta come si dice non costruiscono dal basso fanno una costruzione diretta sfruttando di più la palla lunga hanno avuto successo in questa maniera sì e quindi è giusto che continuino così potrebbero se dovessero cambiare potrebbero avere lo stesso successo così come il Sassuolo calciando la palla lunga potrebbe avere lo stesso successo forse di più ma sì no si va nel campo nel campo delle ipotesi quello che conta è che la costruzione sia efficace quindi sia propedeutica a un buon sviluppo del possesso e che sia efficace per la squadra che la pratica poi se si vuole iniziare col corto se si vuole giocare col lungo se si vuole alternare le due situazioni qualche passaggio sul corto e poi la palla lunga questo è quello che conta è l'efficacia se si ottengono risultati se una squadra dati alla mano ottiene risultati con una costruzione è giusto che continua a fare quella se dati alla mano una squadra ha successo con un altro tipo di approccio è giusto che faccia quello detto questo detto questo senza voler criticare nessuno perché io non mi permetto di criticare il lavoro degli altri soprattutto di professionisti che sono tanti anni che lavorano e fanno benissimo il loro mestiere dico solo che essendo io di una certa età preferivo forse quando il commento tecnico lo faceva il commentatore tecnico e la prima voce faceva la prima voce cioè commentava le azioni che succedevano magari dando uno spunto e poi facendo fare il commento tecnico al commentatore tecnico se devono essere due perché ormai sono tanti anni ormai sono decenni che ai miei tempi ce n'era uno solo però ormai sono decenni che si usano due voci va bene così però il commento tecnico del commentatore tecnico la cronaca della partita della prima voce non mischiare i ruoli per non rischiare di mischiare le competenze che a volte alcuni hanno e altri alcuni sono più portati a fare una cosa alcuni sono più portati a fare un'altra non chiedere mai a un commentatore tecnico di fare la radiocronaca la telecronaca e così mi aspetto che non si chieda a chi fa la radiocronaca la telecronaca di fare il commento tecnico io volevo aggiungere due cose in merito a questa analisi che ha fatto Gabriele che condivido la prima è che tra l'altro l'episodio in questione che era anche integrato lo trovo stupido perché quello non è anche una costituzione al basso è un semplice disimpegno sbagliato infatti tutti gliel'hanno fatto notare anche Bergman anche Bergman Calessa vive nel suo magico mondo e quindi queste cose succedono però no scherzi a parte a parte questo io personalmente credo che questo discorso della costituzione dal basso mi ricorda un po' quello che si diceva qualche anno fa sul tema tra giochisti e risultatisti cioè mi sembrano quei discorsi che vengono sempre come dire polarizzati in cui ci sono quasi sempre due fazioni c'è sempre una categoria di persone che vuole estremizzare il discorso magari per portare avanti le sue posizioni i suoi argomenti e quindi si inizia ogni volta a criticare chi inizia a fare la costituzione dal basso il Sasquolo quando ha fatto risultati allo stadium o a San Siro giocando dal basso nessuno ha detto niente quando magari ha perso o ha subito anche un gol su un disimpegno sbagliato su una costituzione sbagliata in tanti soprattutto su Twitter hanno dato questa cosa hanno proprio la smania di andare a cercare a dire eh vedete questi che fanno il tiki tac eh ma giocate al calcio pane e salame questo e quell'altro cioè io per dire di solito non mi intramento in questi dibattiti però per dire si potrebbe controbattere questo discorso con due ottimi esempi il primo riguarda Sandoi a Cagliari qualche settimana fa dove Audero fa un rinvio incredibile all'ultimo minuto la Sam perde palla e pochi secondi dopo prende gol perché è proprio gestisce malissimo la palla la seconda il secondo argomento che si potrebbe usare conto questa cosa è un c'è un video bellissimo su Twitter se cercate l'account Bansley Stats dura due minuti è bellissimo ragazzi perché qui parliamo di calcio tennis la palla viaggia in area in continuazione tutti che calciano che la spazzano che la colpiscono di testa cioè è una cosa veramente brutta per cui come vedete se da un lato è facile portare argomenti contro la costituzione al basso si possono anche facilmente trovare argomenti a favore della costituzione al basso io francamente trovo questo dibattito noioso cioè io mi diverto a guardare la Sassuolo come mi diverto a guardare il Verona perché sono due stili diversi e comunque sono due squadre che a modo loro ottengono risultati per cui benvenga la diversità secondo me il calcio è bello perché perché è vario e giocassero tutti allo stesso modo sarebbe sicuramente meno bello io direi che per oggi possiamo chiudere qua saluto Charles Nuacqua ciao ciao a tutti alla prossima e saluto Michele Tossani che andrà a vedere l'Isola dei Famosi ciao Mich grazie mi aspetta il serale dell'Isola dei Famosi grazie magari tra qualche anno ci vai te all'isola speriamo di no comunque tutto può essere lui vince tutto può essere le palestre non so se ce l'hanno e poi non potrei tenere la mia dieta proteica non credo quindi vediamo non credo ciao ciao